Grande lavoro quest'oggi per la difesa dell'Intigione e ovviamente anche per uno dei due centrali, Matteo Bertoli, autore di una buona prestazione, naturalmente bersagliato da tante occasioni avute dalla squadra avversaria. Sì, loro erano una squadra che aveva individualità importanti davanti, ci hanno un po' messo in difficoltà creando situazioni in cui siamo riusciti per fortuna a non prendere gol. L'ultimo è stato veramente bravo e gli avevano fatti i complimenti. In altre occasioni invece eravate stati anche voi bravi a fargli perdere il tempo in tante occasioni, quando erano vicino, tranne l'occasione di Mozzanica che ha sbagliato forse perché credeva di essere apprezzato da uno di voi. Sì, sì, l'analisi è corretta. Noi ci siamo difesi bene, è chiaro che contro una squadra forte qualche occasione la possono avere. Noi siamo riusciti a tenere botta e dispiace per aver preso il gol alla fine. Anche perché è stata una partita in cui entrambe le squadre volevano vincere. Sì, sì, sicuramente. Poi comunque la prima dopo la pausa non è mai facile. Il campo purtroppo per le condizioni era abbastanza pesante, quindi è stata una grande battaglia da parte di tutte e due le squadre. Abbiamo detto che il gol di Bardione è veramente un gran gol, eh? Sì, è stato bravo, ha calciato in modo perfetto. Penso che potesse essere forse l'unico modo in cui poteva fare gol.